Ad Aversa la quarta corsa e il premio scherma, un miglio per soggetti di tre anni. Sette i concorrenti agli ordini dello starter. Prima fila per Barenne Fass, Bugea Pax, Benno P, Bonetto Cass, Blend MP, Barry White. In seconda Bucefalo Palferm. Mezzo meccanico che prende velocità, si ritrae il 6, Barry White, si ritrae anche Blend MP. La rottura di Benno P, Bugea Pax è impegnato a largo da Bonetto Cass, in bocco della prima piegata. Con Bugea Pax che tiene il comando. E riesce a completare la prima piegata ma poi sbaglia e si elimina. 15-4 i due centri iniziali, già squalificati 2-3. Si ritrova in maniera sorprendente al comando Barenne Fass, direi addirittura clamorosa. 39 il quarto iniziale con Barenne al condurre le danze. In seconda posizione Bucefalo Palferm. A largo Bonetto Star e Blend MP. Chiude Barry White. 45-7 i 600. Si viaggia a media di 1-16 o poco più. 5 rimasti in gara. Con Barenne Fass che ha potuto rifiatare a piacimento e completare gli 800 in 1-2 e mezzo. Si agganciano adesso Bonetto Star e Bucefalo Palferm. La rottura di Bucefalo Palferm. Si libera Blend MP che va sul leader e lo costringe ad accelerare. Dopo il chilometro in 1-19-1 si avvicina a Barry White. Blend MP sta sopravanzando Barenne Fass e prende il largo. In seguito dallo stesso affiancato da Barry White. Notevole la frazione ultima in 14-2 che consente a Blend MP di scavare vantaggio importante. Ancora una curva molto veloce in 13-8. E Blend MP arriva isolata in retta d'arrivo. E va a concludere alla grande. Nelle mani di Crescenzo Maione. Al secondo Barry White precede Barenne Fass. La media dovrebbe aggirarsi intorno all'1-16. Un minuto per gli 800 conclusivi. Ma soprattutto veloci i 600 finali che sono stati percorsi in 43 e qualche spicciolo. Dalla vincitrice Blend MP. I colori della CMC per la figlia di Varenne Sotta Gas. Carlo Terracino ed Antonio Cavagnolo al training. E come dicevamo Crescenzo Maione in salchi.